Scusate il ritardo, oggi è finito un po' più tardi perché poi oggi pomeriggio sono liberi. Chi parte? Buongiorno Cristiano, ciao senti. Mi ricordo l'anno scorso quando il Milan ti cercò, andassi da Pioli a domandargli se secondo lui facevi ancora parte del progetto. Mi chiedo se ha fatto la stessa cosa con Montella. In realtà ho parlato con il mister, ancora non mi sto concentrando tanto sul recupero del ginocchio, però ho avuto modo di parlare con il direttore e mi è stato detto che faccio parte della squadra e del progetto. Sono molto contento di questo. Come avete visto l'anno scorso, io rifiutai il Milan, quindi non ho problemi di andare in squadre. Io voglio solo le cose giuste, le cose fatte bene, progetti seri, importanti. A Firenze sto bene, la mia famiglia sta bene, quindi va bene così. Ti ripeto, poi adesso in testa c'ho solo il ginocchio, è normale perché voglio recuperare il più in fretta possibile perché mi manca tanto il campo. Poi ho fatto tutta l'estate a Firenze a curarmi, quindi non vedo l'ora di rientrare e stare bene. Così va bene? Ok, va bene, vai. Prego. Ciao Cristiano, senti, hai detto, a me interessano solo le cose giuste e fatte bene, e progetti seri. Ecco, in questa nuova avventura alla Fiorentina, vedi tutto questo, c'è qualcosa che ti colpisce in particolar modo? No, ma ti dico la verità, ma io lo vedevo anche prima, perché se non vedevo un progetto serio, ero il primo a chiedere di andare via. E quindi, poi le cose sono andate come sappiamo tutti, è arrivata una proprietà nuova, avendo entusiasmo da parte loro, da parte nostra, da parte della città. Questa è una buona base per partire, è normale che quando riparti un progetto come ripartito due anni fa, ci vuole pazienza, c'è da formare una squadra, c'è qualcuno che va via, qualcuno che rimane, qualcuno che viene nuovo. Noi che siamo qui, stiamo lavorando, io sto lavorando a parte, però vedo il gruppo, sono uno dei più anziani, quindi qualcosa riesco a capire. Vedo molto entusiasmo da parte anche dell'allenatore, dello staff. Quello che diciamo si era un po' perso la fine dell'anno scorso, e che ci aveva portato a risultati negativi. Ecco Cristiano, buongiorno intanto. Ti chiedo, abbiamo chiesto anche ieri a Marco Benassi, qual è l'errore da non commettere quest'anno, prendendo spunto da ciò che è successo l'anno scorso, e proprio perché sei un veterano, a chi arriverà cosa dirai, per illustrare cosa è la Fiorentina e cosa è appartenere a questa squadra. Riguardo all'anno scorso, ti dico, quando le cose vanno male abbiamo cercato in mille modi di capire qual era il problema, ognuno dice la sua, come è giusto che sia, ma fondamentalmente dopo la Coppa Italia a noi ci aveva fatto male quella sconfitta, perché ci credevamo, perché l'avevamo raggiunta battendo squadre forti. Però, sai, penso che quest'anno è l'anno zero, nel senso che bisogna cancellare quello che è stato, ovviamente tenendoci dentro quel senso di rivalza, perché non è andato bene assolutamente come abbiamo chiuso l'anno scorso, e dobbiamo ripartire, perché arriva, la cosa importante per quelli che arrivano è sicuramente calarsi subito nella realtà e nel gruppo che abbiamo creato, che è una squadra che può sbagliare ai pro e ai contro, ma è una squadra che rispecchia tra le regolette la città, una squadra che non molla mai, che mette tutto, che suda la maglia e poi alla fine si tirano le somme, come abbiamo sempre fatto. Ciao Cristiano, senti, volevo chiederti, te sei stato uno tra gli ultimi a vedere Federico Chiesa prima delle vacanze, ecco, cosa significerebbe per la Fiorentina, in vista della prossima stagione, perderlo, e invece cosa significerebbe averlo ancora con noi? Federico è un giocatore importante, non lo dico di certo io, poi quando l'ho visto l'ultima volta in Nazionale eravamo in Nazionale, quindi è extra Fiorentina, e quando siamo in Nazionale pensiamo sarà in Nazionale, anche perché avevamo due partite importanti. Federico è un giocatore per noi importante, io adesso non l'ho più visto, non l'ho più sentito, lui deve pensare a quello che vuole fare, perché giustamente è un giocatore importante, è un giocatore ambito da squadre di livello internazionale, farà la sua scelta, la farà sicuramente con la massima correttezza nei confronti della società e della città, perché è un ragazzo serio, quindi qualsiasi scelta farà, gli auguro il meglio, è normale che sarei contento se rimane con noi. Altre domande? Ciao Cristiano, proprio sulla tua condizione fisica volevo capire quando pensi di rientrare in gruppo, e se un po' ti scoccia il fatto di saltare il ritiro estivo per questo infortunio, volevo capire anche da parte tua cosa può cambiare alla lunga nel corso della stagione il non fare appunto il ritiro estivo qui in montagna, grazie. Io penso di rientrare in gruppo giovedì, quindi fondamentalmente non ho perso tanto di preparazione, anche perché la squadra si è trovata mercoledì scorso, io è dall'8 di giugno che sono a Firenze, quindi ho perso ma relativamente, ho ottenuto il tono muscolare per quel che potevo, sto facendo lavori organici, quindi comunque penso che magari la condizione, quando torniamo dall'America, la condizione sarà ottimale. E questo volevo spezzare una lancia in favore del nostro staff medico, perché dal dottor Luca a tutti i fisioterapisti penso che veramente hanno fatto un gran lavoro, e io fortunatamente è la prima volta che mi trovo a lavorare veramente a stretto contatto con loro, perché non mi ero mai fatto male, devo dire che abbiamo uno staff medico invidiabile. 3-5-2 e 4-3-3, Montella li usa tutti e due, io ti chiedo quale ti piace di più a te di questi due moduli, e appunto dove ti trovi meglio? Devo essere onesto, non ho un modulo preferito, comunque resto un giocatore di fascia, quindi le caratteristiche rimangono quelle, sia se gioco, se faccio il quarto, sia se faccio il quinto, magari con qualche compito diverso, però non è una cosa che mi destra disturbo. Grazie a tutti, buona giornata.